Parcettiamo là, è il posto giusto per chi vuol chiamare. Samora, tanto non si senta fuori, siamo io e te in questa 127 place, tutta tapezzata di giornali. Tutta rana sanz, mai buona puro barca rimembrant. Stasera si è creata l'atmosfera giusta, adorau. Chi stu, papaccio schicchi, che ti piace tanto pure a te? Chi stu, è giù, ne lascia il Covid di settembre. Madonna, sì, tu sei ripida, mi hai scassata tutta il ribaltabile. Che calore, mi hai distrutto gli ammortizzatori, fammi stare pieto per pietà. Sì, grazie. Poche musica, Anna Oxa, Nebulisse, un bel Pino Daniele. Tengo un pensa nei culo di Iglesias. No, 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 grazie, datemi il resto. Non è sempre lo stesso, miss. Gomme. Deodoranti. No, 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 grazie. Mendine per l'alito. L'alito sta a posto. Solo duemila lì. Tre, quattro e cinque. Pulissimo un caffè. Due.